Siamo in compagnia di Antonino Laspina, presidente dell'UMPLI, questa associazione che riunisce tutte le prologo d'Italia. Parliamo con lui e gli chiediamo qual è l'importanza, poi ne parliamo anche un po' più con la seconda domanda, di questa associazione. Le prologo d'Italia sono un'organizzazione presente in tutta Italia, una delle istituzioni più antiche del nostro paese, più presente sicuramente anche dal punto di vista istituzionale. Abbiamo oltre 6.200 realtà e lavorano costantemente 365 giorni l'anno per promuovere, valorizzare e creare i presupposti indispensabili in ogni località. Un mondo di volontari, oltre un milione di volontari in tutta Italia che lavorano a fianco delle istituzioni per dare quei servizi, quelle opportunità ad ogni comunità. Ho sentito nell'apertura parlare anche di un progetto di legge, di una riforma per quanto riguarda questo settore. Anche l'UMP in qualche modo ha proposto un'iniziativa in questo senso? Sì, abbiamo presentato grazie all'iniziativa del senatore Antonio De Poli una proposta di legge che possa alleviare un po' quello che sono le maglie della sicurezza, che non vuol dire che i nostri eventi non siano sicuri, ma è importante che siano messe le nostre realtà in condizione di non dover abbandonare la possibilità di organizzare degli eventi. In troppi casi i presidenti di Proloco, chi organizza l'evento, è costretto ad avere un carico di responsabilità oltre il livello di sopportazione. In molti casi l'aspetto burocratico, l'aspetto del carico di responsabilità diventa un motivo per non fare l'evento. Grazie a questa proposta di legge che mi auguro il prima possibile possa essere passata al vaglio ed essere anche approvata, darà la possibilità alle nostre Proloco di lavorare con più serenità per dare ancora di più il proprio apporto a ogni comunità. Grazie Antonio Nospina.